salve come andiamo? tutto bene? buongiorno buonasera quello che è insomma allora il rischio sanitario era nella lista dei video che volevo fare da tanto tanto tempo però il coronavirus mi ha anticipato perché è antipatico guarda la scena tutta per sé non ce la fa stare virus batteri eccetera non ce la fa stare e quindi sono messo a corona raccontando coronavirus allora partiamo col dire che i virus sono non si sa se sono esseri viventi ma sono in pratica dei parassiti obbligati questo vuol dire che hanno bisogno per forza di un ospite animale o uomo per vivere il 100% delle loro preoccupazioni consiste nel trovare un organismo entrarci dentro iniettare il proprio materiale genetico riprodursi fine a 20 anni avevo la mentalità di un virus sozzo sono inoltre sprovvisti di organoli di organi interni insomma è l'unica cosa che hanno è un filamento di materiale genetico dna o rna nel caso del coronavirus è un singolo filamento di rna e quindi per riprodursi devono infiltrare dentro un organismo cercare una cellula che gli vada genio e violando senza vasellina la parete cellulare iniettano il materiale genetico che prenderà il posto negli bosomi al posto di quello della cellula sana così facendo la cellula bersaglio inizierà a produrre le componenti del virus e a creare virus tanti virus talmente tanti che la cellula bersaglio morirà perché squarciata da tutti questi virus che è bella la natura quindi non solo tu non sei in grado di riprodurti e ti serve una cellula bersaglio ma uscendo ne a squarci pure grande bravo ed ecco perché quando feci l'esame di rischio igienico sanitario alla domanda del professore del perché avessi portato i virus come argomento a scelta io risposi perché sono infimi e bastardi true story ma io lo chiamo coronavirus ma coronavirus non è il suo nome coronavirus è la sua famiglia la sua famigliola insieme a mamma sars e papà mers sono tutte infiammazioni respiratorie acute gravi sars quello vuol dire il suo nome in realtà è sars cov 2 ossia sindrome acuta respiratoria grave da coronavirus 2 il 2 perché gli scienziati avendo poca fantasia così lo distinguono dall'epidemia di sars del 2002 la malattia che provoca invece si chiama covi 19 ossia malattia da coronavirus 2019 o polmonite di guanna la trasmissione del virus invece è quella dell'influenza ossia tramite tosse o semplicemente parlando parlando noi espelliamo delle micro goccioline che vanno nell'aria arrivano massimo due metri quindi oltre due metri già non c'è più niente però se ti prendi il virus non è che ti viene subito la malattia nel caso di cov e si lo chiamo cov per amicizia cov possono passare dai due ai 14 giorni perché questo è il periodo di incubazione spiegato facile non tutti i sintomi sono provocati dal virus stesso ma alcuni sintomi sono provocati dal corpo che reagisce al virus e ci vuole tempo affinché i virus siano talmente tanti numerosi affinché il corpo mette in in atto queste soluzioni noi possiamo avere alcune malattie praticamente giornalmente ma non ce l'accogliamo perché il nostro sistema immunitario lavorando e lavorando bene non ha bisogno di scatenare i sintomi esterni ce la fa da solo un esempio è la febbre aumentando la temperatura si può arrivare a uccidere solo per aumento della temperatura i batteri o i virus ed ecco perché ci viene la febbre la febbre non la provoca il virus ma la provoca il corpo stesso come risposta al virus nel caso di cov i sintomi sono tosse mal di testa agonio fiammata malessere generalizzato e febbre nei casi più gravi polmoni insufficienza renal risulta fatale solamente nel 2 per cento dei casi e comunque da persone over 70 o già con malattie soprattutto ispiratorie o del sistema immunitario pregresse a venerdì 28 febbraio che è il giorno in cui registrando al conto in italia è 650 positivi 45 guariti e 7 morti però io oggi non vi farò la storia di tutta l'infezione ma risponderò a delle domande che ho preso in ordine molto casuale da parenti amici di internet per cercare di chiarire un po come stanno le cose quanto tempo sopravvive il coronavirus sulle superfici non si sa esattamente quanto questo virus possa sopravvivere sulle superfici probabilmente qualche ora ma non di più ma non di più perché come ho già spiegato è un parasito obbligato quindi per vivere ha bisogno per forza di un corpo dove attaccarsi se no muore è sicuro ricevere pacchi dalla cina o da altri paesi dove il virus è stato identificato sì perché anche se un contagiato ha tossito sul vostro pacco il tempo che vi arriva il virus è già morto non sopravvive sulle superfici sopravvive solamente in un ospite che gli aggrada in questo caso umani o pangolini sembra che venga da là il virus perché è comparso il nuovo il nuovo coronavirus allora ci sono dei virus che infettano normalmente animali insetti o altri o altri ospiti o altri organismi e questo virus però un certo punto siccome normalmente i virus mutano possono arrivare a fare il salto inter specie ossia possono arrivare dal dall'animale facciamo facciamo per esempio dall'animale all'uomo dall'animale all'uomo semplicemente mutando ma tutti i virus mutano quanto durerà questo focolaio spero il meno possibile non si sa esattamente quanto durerà ma io spero il meno possibile perché sta succedendo un casino per niente gli antibiotici possono essere utili per prevenire l'infezione no assolutamente no questo perché gli antibiotici hanno effetto sui batteri essendo questo un virus non ha nessun effetto se se vi volete prendere un farmaco andate dal medico il medico e li apposta anche perché prendendo antibiotici a cazzo senza utilità anche i batteri si evolvono quindi batteri possono evolvere una risposta una immunità verso quella verso quella gente antibiotico e quando ci servirà veramente l'antibiotico il batterio sarà mutato e quindi l'antibiotico non si servirà più quindi andateci piano con gli antibiotici anche durante l'influenza e il raffreddore non prendete antibiotici perché l'influenza e il raffreddore sono virus se il medico vi dà un antibiotico vuol dire che un motivo c'è ma non ve lo prendete da soli perché può essere pericoloso non ora ma in futuro a furia di prendere antibiotici devo indossare una mascherina per proteggermi se vuoi se vuoi fai come in Giappone che già da anni girano con le mascherine i giapponesi già da anni girano con le mascherine perché o non vogliono prendersi raffreddore influenza cose genere o perché ce l'hanno e non la vogliono passare agli altri quindi in Giappone per esempio le mascherine o in Cina le mascherine già si usano da tempo mettitela è necessaria? No! No non è necessaria per due motivi numero uno non c'è bisogno di mettersela a cacchio numero due l'infezione passa anche dagli occhi quindi o hai degli occhiali da vista o da sole in modo che ti protegge anche gli occhi oppure è quasi inutile però se assistete le persone malate si mettetevela e soprattutto fatela mettere alla persona malata quando la mascherina si inumidisce un pochettino non la prendete dall'avanti ma da dietro la prendete e la buttate cosa posso fare per proteggermi? lavati le mani prima cosa la prima cosa è l'igiene personale lavarsi le mani e il cambio dei vestiti quella è la prima cosa ma proprio l'igiene è la base poi e mantieni una certa distanza diciamo due metri più che sufficiente dalle persone potenzialmente infette posso contrarre l'infezione dal mio animale di compagnia? no! cani, gatti e conigli non hanno avuto il salto interspecie c'è stato solo fra tangolino sembrerebbe un animale della Cina e l'uomo il salto interspecie non è ancora avvenuto fra uomo e cani, gatti eccetera cosa devo fare se credo di aver contratto il coronavirus? non ti lecare né dal pronto soccorso né dal medico di famiglia ma chiami il medico di famiglia e lo fai venire a casa oppure se il medico di famiglia non viene o non vuole venire chiami il 112 o il 118 e chiedi informazioni al riguardo se necessario ti manderanno loro una persona a casa questo virus è stato creato in un laboratorio in Cina? no! 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 dai! dai su! non ve l'andate su questi arambicchi mentali l'alcol usatelo per disinfettarvi le mani non ve lo vedete troppo ok? va bene? perché di questa emergenza se ne sta occupando lo Spallanzani? perché lo Spallanzani è il centro migliore e più attrezzato contro le emergenze di natura virale o batteriologica perché nel 2000 è già stato scelto per affrontare queste emergenze ha un laboratorio di biocontenimento di livello 4 ossia il più alto in assoluto in Italia ce ne sono solo due di questo livello uno allo Spallanzani e uno al Sacco a Milano e può gestire in massima sicurezza tutti i virus e patogeni possibili e disponibili e i virus e patogeni più pericolosi li può gestire tranquillamente quindi poi hai reparti di terapia intensiva isolata perché in generale è attrezzato perché il Dipartimento della Protezione Civile? il Dipartimento della Protezione Civile è coinvolto in questa emergenza in quanto come già ho detto nel video del terremoto dell'80 perché è l'unico che può mettere allo stesso tavolo tutti i vari attori coinvolti in un'emergenza in quanto non dipende da un ministero non è un ministero, non è un ufficio di un ministero ma è un braccio, una diretta emanazione della Presidenza del Consiglio quindi gerarchicamente parlando è più in alto di un ministero è alla pari con la Presidenza del Consiglio in quanto un suo braccio in pratica posso vendere gel disinfettante per mani a 7 euro la boccetta? no! non fate gli speculatori non fate le persone cattive ok? il gel disinfettante per mani costa 2-3 euro e 2-3 euro lo deve fare a pagare massimo perché se no siete persone cattive siete tanto cattivi quanto quelle persone che fingendosi operatori sanitari della Croce Rossa per informare le persone sul coronavirus in realtà gli entrano in casa solamente per svaliggiarla siete molto cattivi dove mi devi informare per avere informazioni sul coronavirus utilizzate come fonte di informazione solamente gli enti accreditati giornali, televisioni o istituzioni o cose simili io vi metto in descrizione dei link per informarsi che hanno anche altre domande oltre a queste e vi metto anche un link di un canale YouTube è il link del canale YouTube del Dipartimento della Protezione Civile che due volte al giorno alle 12 e alle 18 emana un bollettino per la situazione odierna il mio amico, di mio cugino, di quello, di quell'altro cosa su Facebook, Instagram non ve lo cacate perché fa più danni che altro un'altra cosa che fa più danni che altro sono le ricette casalinghe perché siccome questi cosettini stanno andando a ruba escono fuori le ricette casalinghe però l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato la sua di ricetta casalinga e quindi andiamo sono Manuel, benvenuti nella mia cucina e perdonatemi per l'audio allora per fare il gel disinfettante per le mani ricetta OMS cosa abbiamo bisogno? allora per fare la ricetta serve un contenitore graduato possibilmente due questo è graduato questo è graduato poi bisogno di alcol questo no perché ha una percentuale troppo bassa scritto qua 30% non ci basta vediamo l'alcol forte alcol alimentare al 96% perfetto poi micerolo o glicerina vegetale scusate per la mano farmacia o negozi di sigarette elettroniche li trovate non costa niente acqua ossigenata e contenitori per il trasporto e per l'uso possibilmente chiusi si potrebbe utilizzare alcun barattolo però a metterci le mani dentro poi si si infetta quindi meglio che siano chiusi procediamo la ricetta OMS è per un litro però io ho pensato che un litro è un po' troppo quindi ne faccio mezzo litro quindi ho preso le dosi che comunque vi lascio in descrizione le dosi esatte e che però è troppo quindi io lo farò per mezzo litro iniziamo 415 ml di alcol prossimo acqua ossigenata 22 millilitri ma come faccio a prendere 22 millilitri è un po' poco o ce l'ho la scala in millilitri che non ce l'ho scala in millilitri o siringa qua sono 5 millilitri mi vado a fare i conti 20 e 2 poi 7,5 millilitri di glicerolo stessa cosa il problema con il glicerolo è che è estremamente denso quindi secondo me no no pensavo di faticare di più sinceramente 5 blu blu denso ora la ricetta dice arrivare a in questo caso mezzo litro ne mancano 50 millilitri più o meno con acqua distillata il problema è che io l'acqua distillata non ce l'ho quindi bolliamo l'acqua la facciamo raffreddare e la mettiamo dentro tranquilli che si può fare l'OMS dice così aspettiamo che bolla e si raffreddi sta bollendo spegniamo e lasciamo raffreddare l'acqua si è raffreddata e andiamo a versare è ancora caldina poteva stare troppo quant'è poco più di 500 va bene così ok chiudiamo ecco qua però questo contenitore è un po' troppo grosso è caldo va bene vederlo va bene per averli in casa però da trasporto ho preso questi qua li vendono dal cinese che sono nei kit di viaggio ora poso il telefono per riempirlo se no mi cade tutto ed eccolo qua puzza puzza d'alcol però diciamo che funziona non è a gel come quello che vendono è liquido quindi mi raccomando all'igiene noi abbiamo finito qui ci vediamo alla prossima in descrizione vi lascio tutti i link necessari sia del canale youtube oms e di altri enti accreditati che danno informazioni quindi mi raccomando da dove prendete le informazioni per qualsiasi altra informazione vi lascio il numero in descrizione del ministero della salute della linea apposta del ministero della salute per informazioni o per preoccupazioni di carattere generale spero di non essere mi dimenticato niente e alla prossima di carattere di carattere